Va con il possesso palla, occasione d'oro, o spina, dice di no. Palla buona per Kames. Occhio a Kames. E c'è il tiro di Falcao. Avanza il Giappone qui. Hanno il pallone buono per dimezzare lo svantaggio. Si avvicina all'area. Può far male da lì. Non è finita, palla ancora pericolosa. Grande recupero e c'è il tiro. Grazie. 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 Grazie a tutti.